Musica Spostare i fondi della 219 per il terremoto per sopperire all'emergenza scuola e questa è la strada che il sindaco Domenico Forgione sta tentando di percorrere al fine di riportare entro settembre le scuole medie a Gesualdo. Ha dato incarico ad un noto legale per ottenere un parere sulla fattibilità dell'operazione. I fondi verrebbero utilizzati per l'acquisto di moduli prefabbricati in cui sistemare i ragazzi delle scuole medie dal 13 marzo collocati presso il plesso di Frigento dopo che l'istituto comprensivo Cillo Palermo è stato chiuso dallo stesso sindaco per altissima vulnerabilità sismica in base ai rilievi dell'esperto Michele Candela. Questa potrebbe essere una soluzione almeno temporanea per le scuole medie ma per le scuole elementari? I genitori hanno accettato la sistemazione tampone della casa canonica ma sollecitano per il nuovo anno scolastico una migliore collocazione ritenendo le aule messe a disposizione dai padri cappuccini troppo piccole. Sono quindi intenzionati a chiedere un incontro con il sindaco tacciato di scarsa comunicatività per avere un confronto. Qualche risposta però potrebbero averla venerdì prossimo, 31 marzo, in occasione del Consiglio Comunale. Il sindaco Forgione ci ha confermato che nell'ordine del giorno sarà inserita un'informativa sul tema scuola in particolare proprio sul possibile utilizzo dei fondi della 219. Darà notizia delle valutazioni del legale. Probabile che, vista la situazione emergenziale, l'operazione sarà consentita dalla legge ma di certo non sarà gradita ai privati già in graduatoria ed in possesso dei decreti che sono in attesa dell'assegnazione dei fondi e che quindi faranno sicuramente partire i ricorsi. Insomma, una brutta gatta da pelare per il giovane sindaco di Gesualdo tra la necessità di riportare le scuole medie a Gesualdo, trovare una soluzione migliore per l'elementare in attesa che siano completati i lavori di efficientamento energetico all'altro plesso e contestualmente cercare fondi per la ricostruzione o ristrutturazione del Cillo Palermo avendo perso il treno dei finanziamenti della buona scuola.